E allora quando parliamo di turismo enogastronomico non possiamo tralasciare una fetta importante che rappresenta la massima professionalità italiana conosciuta nel resto del mondo, quella dei cuochi degli chef. Siamo in compagnia dello chef Bartolo, così meglio conosciuto nel resto del mondo, non solo in Italia. E allora proprio con lui vogliamo affrontare questo capitolo. Intanto la tua esperienza che ti porta a praticare consulenze non solo in Italia ma nel resto del mondo. Ecco, cosa puoi dire proprio dal tuo punto di vista del turismo enogastronomico, così com'è sviluppato adesso in Italia e così com'è la percezione che ne hanno gli altri paesi che guardano all'Italia come un vero e proprio ferro all'occhiello, almeno in questo settore. Infatti fortunatamente almeno in questo settore. Allora io parto col dire che fortunatamente abbiamo dei prodotti eccellenti. Noi su questo siamo molto molto fortunati. È inutile andare adesso a far polemiche per tante cose che non vanno. Secondo me bisogna soffermarsi su quello che adesso va. Abbiamo dei prodotti eccellenti che esportiamo in tutto il mondo, che utilizziamo appunto in Italia nelle nostre cucine e che comunque ci invidiano tutti. Io col mio lavoro comunque giro tanto, soprattutto in Italia da nord al sud. E quindi di prodotti ne conosco tanto, tanti. La cosa spettacolare è che se vai in una città che è famosa per quel prodotto, ti accorgi che ti sposti di due chilometri e c'è un altro prodotto, ti sposti di un chilometro e c'è un altro prodotto. Siamo pieni zeppi di prodotti fantastici e che comunque dobbiamo essere orgogliosi e portarli veramente, oltre quello che già facciamo, portarli ancora di più in tutto il mondo. Ecco, quello che è diventato importante per voi, cuochi, so che tu ami questo termine, anche io come te lo amo, perché ci appartiene più di chef sicuramente. Allora, il vostro ruolo ormai è diventato quello di veri e propri ambasciatori del nostro gusto nel resto del mondo. Ne conosco tanti, di amici che hanno cominciato in piccolissime realtà, piccolissimi comuni e poi adesso sono chiamati veramente negli Emirati Arabi Uniti o in altre parti del mondo dove sono altamente rispettati per il lavoro che fanno. Quindi voi portate veramente la nostra immagine nel resto del mondo, sempre con una grande, grande tempra. Quindi un merito. Dovete diventare anche proprio ambasciatori in questo senso. È un mestiere, quindi, quello di cuoco e quello di ambasciatore del gusto che si può imparare strada facendo, si può migliorare strada facendo? Allora, sull'imparare direi di sì, non dico di sì, nel senso che nessuno di noi nasce imparato quindi tutti quanti noi abbiamo imparato. Indubbiamente io credo fortemente che nel nostro DNA bisogna avere la predisposizione alla cucina. Io dico sempre che io sono nato cuoco, cioè nel senso che mia mamma quando mi aveva storito ha già detto, ah che bel cuoco. Quindi per forza il cuoco dovevo fare nella vita. Per quanto riguarda migliorare, assolutamente sì. Tutti quanti noi possiamo sempre migliorare. Io dico sempre che amo la cucina, oltre tutte le altre cose, amo la cucina perché è infinita. come a differenza di come diceva T.D. Lemon 900 appunto di Baricco, libro di Baricco, che lui amava suonare il pianoforte perché sapeva che erano 88 tassi, quindi c'era un inizio e una fine. Io invece adoro la cucina perché ci può essere forse un inizio, non si sa quale sia l'inizio della cucina o si sa ben poco, ma non c'è una fine. È talmente immensa che puoi spaziare e variare su tutto. Senti, ultima cosa ti chiedo, che cos'è l'Italian Kitchen Academy e soprattutto tu che cosa centri? Allora io centro perché sono uno dei docenti ed è una nuova scuola di cucina, anche se è riduttivo chiamarla scuola di cucina perché è un progetto molto molto importante che abbraccia sia il settore professionale sia il settore amatoriale e soprattutto si rivolge a un pubblico non solo locale ma un pubblico a livello mondiale. Quindi dietro c'è tutta una filosofia e indubbiamente bisognerebbe andare a visitarla questa struttura e vedere appunto lo statuto, che hanno uno statuto molto importante, dove appunto loro ci tengono tantissimo a portare avanti un discorso molto molto importante su quelle che sono le basi della cucina.